Ciao ragazzi bentornati sul canale, sono Paolo di Wild Life Italian Division e oggi ci tenevo a parlarvi di un elemento fondamentale. Noi diciamo spesso che siamo escursionisti, ci piace fare escursionismo, ci piace fare trekking e volevo condividere con voi quello che secondo me è l'equipaggiamento essenziale, sono gli accorgimenti essenziali per fare un'uscita non dico in totale sicurezza ma quasi, nel senso cerchiamo di ridurre al minimo gli imprevisti che potrebbero complicarci la nostra escursione o il nostro weekend in giro per boschi. Allora, questo video secondo me è dovuto, non è altro che una chiacchierata, uno scambio di idee, infatti mi piacerebbe anche sapere da voi come vi regolate, come pianificate le vostre uscite e cosa portate, dovuto all'esperienza semplicemente, dal mio bagaglio di esperienza negli anni e ho capito a mio discapito, tant'è che ci siamo persi anche noi diverse volte, ci è sempre andata bene, siamo sempre arrivati lunghi però siamo sempre tornati, mi piaceva condividere con voi insomma quello che ritengo essenziale, indispensabile portarmi dietro durante un'escursione, anche se vado in un bosco che conosco, anche se vado a farmi un giro in un posto in cui sono stato già diverse volte, ci sono secondo me una serie di elementi, di oggetti che dobbiamo sempre avere con noi. Facciamo un passo indietro, nel momento in cui decidiamo di uscire, cosa facciamo? Andiamo a preparare lo zaino, sbagliatissimo prepararlo all'ultimo minuto perché tanto so cosa ci devo mettere dentro, perché ieri sera ho finito di lavorare tardi o perché comunque sia le cose sono sempre quelle. Quando si va a preparare lo zaino secondo me bisogna cominciare a prepararlo un paio di giorni prima per poi ritrovarsi il giorno della partenza o la sera prima della partenza a dare un'occhiata a vedere se c'è tutto, magari ci facciamo una lista di cose che ci vogliamo portare e poi andiamo a chiudere lo zaino con sicuri insomma che non manchi niente. E questa è la prima cosa. Che cosa metteremo nello zaino? Diciamo è abbastanza soggettivo, cambia a seconda della stagione, cambia a seconda dell'uscita, cambia se dobbiamo portare magari qualche cosa anche per un amico o la famosa divisione dei carichi. Ad esempio se siamo in tre dobbiamo farci il caffè, non è che in tre ci portiamo tre fornelletti da campeggio, il fornelletto lo porta uno e magari l'altro porta la moca e via discorrendo. Quindi diciamo la preparazione in sé dello zaino è abbastanza soggettiva. Tolta questa norma che magari lo zaino lo andiamo a chiudere la sera prima e preparare due giorni prima, il resto diciamo è abbastanza arbitrale. Quello che secondo me dentro lo zaino non deve mai mancare sono questi oggetti che adesso vi andrò a mostrare. Non mi sto inventando niente di nuovo, queste sono semplicemente le 5C della sopravvivenza del nostro amico famosissimo Dave Canterbury più una, più una perché? Perché noi alla sopravvivenza tra virgolette non ci vogliamo arrivare, no? Vogliamo essere sicuri di tornare a casa per l'ora di cena, farci una bella doccia e raccontare insomma quella che è stata la nostra avventura del weekend o della giornata. Allora vi mostro questi famosi 5C per come le interpreto io diciamo a livello essenziale, poi ognuno le può andare a modificare, si possono inserire oggetti sempre nell'ambito delle categorie ma diciamo a livello essenziale, a livello minimo con un ingombro non so se si vede ma anche in uno zainetto, anche in un monospalla queste cose ci stanno e non ingombrano. Quindi diciamo a livello essenziale queste sono le cose che io tendenzialmente non lascerei mai a casa. Allora io tengo tutto dentro un sacchettino con chiusura ermetica per evitare umidità e pioggia chiuso con un pezzettino di paracordo, ma si può anche evitare diciamo questa è una cortezza in più. Allora, cominciamo con il cordame. Allora le 5C innanzitutto di Dave Canterbury per chi non le conoscesse sono, ve le dico in italiano, cordame, contenitori, combustion device cioè sistemi per accendere il fuoco, coperture, quindi protezioni o ripari e cutting tools cioè utensili da taglio. Cominciamo con il cordame. Questa è una matassina di paracord, sono 30 metri di paracord e 550 quindi abbiamo una tenuta di 250 kg rapportata, il 550 sarebbero le libre, rapportato in kg e questo paracord diciamo è un po' il cordame per eccellenza, quello un po' preferito, un po' per la robustezza del cordame stesso, un po' perché le animelle interne, qui ce ne sono sette, possono essere usate per accendere il fuoco insieme anche alla corda stessa. Questo è un tipo di cordame che adesso qui non c'è bisogno di portarsene 30 metri, ne bastano anche meno, però diciamo che questo è una tipologia di cordame che quando impariamo ad usarla ci viene utile veramente in mille situazioni, non solo per tendere il tarp o per fare piccole legature ma anche improvvisare una barella, adesso mi viene in mente questa cosa qua, quindi diciamo il paracord come tipologia di cordame è assolutamente consigliabile. E' vero anche che si può usare il filo quello di nylon, c'è chi usa lo spago, però diciamo il paracord a mio avviso insieme al filo di nylon forse sono le ipotesi preferibili e migliori. Ok, quindi qua abbiamo il cordame. Combustion device, quindi sistemi per accendere il fuoco. Io ho messo nel sacchettino l'accendino, perché? Perché l'accendino oggettivamente lo sanno usare tutti, anche chi non è pratico. Ho messo un accendino essenziale della BIC, c'è quello a gas, insomma ce ne sono, tutti conosciamo le tipologie di accendini che ci sono, però diciamo ho messo la versione più essenziale, qui c'è un nastro intorno di dutch tape per fare delle piccole riparazioni, ma fondamentalmente l'accendino è la nostra risorsa di fiamma più immediata. C'è chi usa il fire steel, che a me piace tantissimo anche perché è impermeabile e non ha problemi quando c'è vento, però va un attimino imparato ad usare. L'accendino invece diciamo ci dà una fiamma immediata, in caso di vento, forte vento, se ci ingegniamo un attimo riusciamo comunque ad avere una fiamma e quindi mi sembra diciamo lo strumento più idoneo, diciamo, e più pratico e anche meno ingombrante come Combustion device, quindi come sistema per l'accensione di un fuoco. Anche perché più volte lo abbiamo detto, ma un conto è giocare e un conto è fare sul sedio, quindi in una situazione imprevista di emergenza in cui dobbiamo mettere mano a queste famose 5C, avere un accendino pronto all'uso non è affatto male. Poi coperture, coperture è interessante perché io in questo kit ho messo questa qua, questa è la coperta di emergenza, quella che avrete visto tante volte in diversi film, le usano le squadre di soccorso di terra e di mare e questa è più semplicemente la coperta termica, ovvero una coperta che trattiene assolutamente il calore corporeo una volta che ce la siamo messa addosso. È abbastanza grande, ci si può stare eventualmente anche in due e all'occorrenza con le dovute conoscenze, anche perché tutti questi strumenti diciamo è vero che sono di immediato utilizzo, ma andando un attimo a studiare e informarsi possono essere usati in mille modi, questa coperta può anche essere usata per la costruzione di un riparo tipo tarp. Ci sono diversi modi per ancorarla al terreno, con il paracord che abbiamo visto prima possiamo tranquillamente ancorarla e con l'accendino possiamo tranquillamente mettercela addosso e accendere una fiamma con questa addosso protetti dal vento, anche perché questa non solo trattiene il calore corporeo ma non fa passare nemmeno aria o vento. Quindi questo può fungere sia da copertura diciamo durante un temporale, sia da copertura per passare una notte sotto il tarp, sia da isolante per l'umidità. È veramente interessante, costa veramente una cavolata, in molti kit medici è già presente, ma è bene secondo me averne una anche staccata dal kit medico in modo tale che la possiamo utilizzare ogni volta che sia necessario. Mi piace molto portarmi anche il poncio occhiellato, so che a molti non piace per una questione di peso e di ingombro, però è un poncio che praticamente è chiuso con delle clip, una volta che viene aperto praticamente funge da tarp. Anche questo poncio serve per isolante ovviamente dalla pioggia e dal vento, ma può servire anche come protezione, vedi tarp, per una notte fuori. Una notte del cavolo, però se non altro diciamo ci salva o comunque ci ripara dalle intemperie. Poi container, allora container ce ne sono di svariato tipo. Io ho trovato un po' la quadra con questa borraccia, questa è una semplicissima borraccia da un litro, a imbocco largo che a molti non piace perché ovviamente quando bevi rischi di tirarti tutto addosso, in acciaio inox, non si vede più niente. Comunque sia, questa è una borraccia, classica borraccia da un litro in acciaio inox che non solo mi permette, ovviamente se usciamo senza borraccia ragazzi siamo un po' spronveduti, quindi la borraccia in ogni caso ce la portiamo dietro, così come ci portiamo dietro magari la bottiglia di acqua minerale da un litro, un litro e mezzo, però a me la borraccia piace perché all'occorrenza posso metterla sul fuoco, farmi un tè caldo se è inverno e mi trovo diciamo in una situazione dove mi è permesso e quindi assolutamente consigliata. Tra l'altro ci sono ovviamente diverse tipologie di container, alcuni usano anche solo la tazzina, quella famosa della Decathlon da 400 ml, in acciaio inox pure quella, ma benissimo, ancora più piccola, ancora più portabile, l'unico problema è che non ha la funzione della borraccia, ovvero qui stiviamo già un litro d'acqua, invece con la tazzina tutte le volte dobbiamo andare a cercare una fonte d'acqua, e poi rimaniamo senza acqua per il proseguimento del nostro itinerario. In ultimo, l'ho lasciato per ultimo perché parliamo sempre di coltelli ragazzi, quindi mi sembrava doveroso lasciare spazio anche ad altri oggetti di altrettanta importanza, i cutting tools. Cutting tools per eccellenza durante un'escursione è secondo me il coltellino svizzero, minimo peso, minimo ingombro, ottima resa, coltellino svizzero ce n'è una marea, io uso il Trailmaster che ha il suo bel blocco lama, si ingaggia e si toglie abbastanza facilmente, ce ne sono milioni, molto più veloci, molto più sicuri, sto parlando di blocchi lama, però a me il Victorinox con la sua bella lama, il suo bel segaccio, tutti i vari gadget, vedi, apri bottiglie, cavatappi, cacciavite, apri scatole eccetera, secondo me il Victorinox è uno dei migliori compromessi. Come dicevamo prima, questi sono solo una serie di oggetti, di tutti gli oggetti che potremmo volendo portarci dietro, è ovvio che potremmo avere come cutting tool su un coltello, un piccolo coltello accompagnato ad un segaccio pieghevole, è ovvio che come al posto della borraccia potremmo portarci un pentolino da mettere sul fuoco, potremmo anche cucinare, come dicevamo prima, le opzioni sono tantissime, però questo kit, come ve l'ho mostrato io, sta facilmente in un sacchettino, ha un ingombro minimo, uscire senza la borraccia o senza comunque una scorta d'acqua, che sia estate o inverno, mi sembra veramente da sprovveduti, quindi diciamo questa serie di oggetti racchiusi in così poco spazio, a mio avviso sono assolutamente indispensabili. Come vi dicevo prima però vi ho parlato di 5C più 1, che secondo me è forse la più importante di tutti, se non la più importante diciamo l'andiamo a equiparare a queste 5 cose qua. E la quinta C in italiano, ragazzi, è la carta escursionistica. Carta escursionistica simbolica perché può essere un GPS, può essere una pianificazione della rotta accurata. La sesta C anzi, secondo me, deve essere alla base, cioè ancora prima di andare a fare lo zaino, nel momento in cui decidiamo di uscire per un'escursione di uno o più giorni, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a farci un'idea della zona, di dove andremo, di dove gireremo, di cosa c'è intorno, di quali fonti d'acqua possiamo trovare, di quanto sarà lungo il nostro giro, quanto sarà il dislivello, in quante ore contiamo di farlo a seconda delle condizioni climatiche che troveremo. E in questa cosa una carta escursionistica, una buona pianificazione a computer e quindi poi in GPS, la carta escursionistica ovviamente accompagnata da bussola, contapassi, scalimetro e tutto quello che occorre insomma per tracciare la rotta. Comunque una pianificazione diciamo a livello generale, secondo me se ne parla spesso ma si continua spesso a sentire di gente che viene trovata sui ghiacciari in scarpe da tennis o che viene trovata, che si è persa perché comunque il sentiero, seguo il sentiero, seguo i segnali del CAI, sì finché poi non si vanno a intersecare e tu praticamente non sai più dove ti trovi e pensi di andare a destra e invece vai a sinistra e quindi ti vai a perdere. Quindi la pianificazione per me è alla base di ogni cosa. Ancora prima di portarci dietro il nostro sacchettino con le 5C, ancora prima di andare a chiudere lo zaino, di andare a pensare cosa metterci dentro, la pianificazione deve essere, è importante questo concetto perché tuttora si leggono ogni tanto cose veramente allucinanti e deve essere veramente alla base di ogni uscita. A me tra l'altro è una cosa che piace anche molto fare, mi diverte anche per la curiosità di sapere dove sto andando a infilarmi e quindi la faccio molto volentieri. Io ragazzi vi ho detto quello che penso, fatemi sapere la vostra, spero che il video vi sia piaciuto e prossimamente vi farò vedere cosa metto nello zaino per un'uscita di un giorno in inverno. Ciao a tutti e grazie mille per l'attenzione. Ciao! Ciao!